Ci sono delle analisi condotte questa volta dall'ACA, non dall'ARTA, a fine maggio, che mostrano dati preoccupanti. Voi dite per quanto riguarda l'acqua, qual è la situazione? La situazione è come sempre torbida, non soltanto rispetto all'acqua, ma rispetto ai dati, alla pubblicità che le amministrazioni danno dei dati reali o meno, e al fatto che non ci sia affatto chiarezza in merito alla salute del nostro mare, cosa che ci interessa più di ogni altra cosa. La verità è fondamentale perché la verità stabilisce un rapporto di fiducia tra cittadini, quindi utenti del mare, ma anche operatori commerciali. Noi sappiamo che il 25 maggio ci sono stati diversamente importanti per l'apertura delle famose pompe di sollevamento. L'ACA, questa volta, e non l'ARTA, non sappiamo perché, ha effettuato delle analisi. Queste analisi sono rimaste secretate o quantomeno non pubblicate. Da queste analisi sembrerebbero emergere risultati molto preoccupanti. Il sindaco, pochi giorni dopo, annuncia un mare pulito e splendido. Noi ci auguriamo che sia così come dice il sindaco, ma non riusciamo a comparare i risultati che abbiamo pubblicati, anzi non pubblicati, dall'ACA con le dichiarazioni del sindaco che non sono supportate da alcun documento. Per questo chiediamo all'amministrazione, all'ACA, all'ARTA, al sindaco, qual è lo stato reale di salute del nostro mare. Quali sono i dati in vostro possesso? I dati sono allarmanti perché i risultati del 25 maggio, prelievi fatti proprio in questo posto davanti alla pompa B0, alle 7.30 del mattino parlano, in una piccola provetta, di 100.000 escherichia coli in microgrammi per metro cubo. Quindi è un dato allarmante, 20 volte oltre il limite previsto dalla legge.